Faccio di cuore gli auguri a tutte le cittadine, i cittadini che siano veramente degli auguri che portino pace, serenità, amore come si dice di solito durante Natale, ma che sia un Natale che si possa trascorrere con le persone che si amano, con gli amici e sia un Natale anche per coloro che magari non godono di perfetta salute che riporti la salute. E poi ci aspettiamo un grande 2019 che sia l'occasione per realizzare tutti i nostri sogni, uno per tutti quello dell'autonomia, a questo Veneto, al nostro Veneto bisogna dare l'autonomia e quindi auguri, auguri, auguri a tutti, buon Natale e buon anno.